Mi trovo a Canna Longa, presso l'Allo Consigliare Mario Paschi, in occasione del convegno, l'allevamento della Capra Cilentana, un ritorno al futuro con la partecipazione anche del senatore del Movimento 5 Stelle, Francesco Castiello. Sono dei docenti dell'Università di Napoli, facoltà di veterinaria e funzionari della regione e stanno esponendo tutti quanti gli approfondimenti tecnici e sanitari per quanto riguarda un obiettivo che è quello del miglioramento della produzione caprina. Quando si parla di allevamento di capra, si parla di allevamento di capra che pascola nei nostri mondi, nelle nostre colline e che si nutre di ciò che madre natura mette a disposizione, assegna. Non mangiano certo fieni di insicura provenienza né tanto meno mangimi che molto spesso potrebbero non essere del tutto genuini. e quindi insomma mangia al naturale e trasmette sicurezza ai consumatori perché nella misura nella quale ovviamente il cibo incerito è genuino, anche il prodotto lo è.